hola mink e benvenuti sul canale di alexander mink oggi faremo questo gioco voi dovete scegliere una cosa e io devo indovinare se è quella che avete scelto inizia genio a farlo jingadine dobare jingadine sense eccomi allora voi siete miliardari dovete fare un concorso dove dovete trovare l'oro cioè dovete afferrare l'oro in tre vasi uno con i dei scorpioni avvelenati cioè che ti avvelenano te il secondo con dell'acqua bollente e il terzo con dell'acido sussolico tu quando sceglieresti? hai 5 secondi per rispondere hai scelto l'acqua? anche io lascia che si raffreddi e metti le mani per di loro prossima domanda e lo farà Teo avete davanti un mostro che se ti vede ti smatteralizza nel bosco e ti uccide immediatamente e nessuna via di chance o andresti da un mostro che una volta che ti ha visto ti può salvare la pelle anche io la seconda ora parla James preferisci avere un ragazzo sincero o avere un ragazzo scemo ma bello? la seconda vero? beh io preferisco la prima e anche questo stupidino gioco è terminato scrivete nei commenti quale domanda vi è piaciuta di più e scrivete nei commenti come potremo fare il prossimo video se arriva questo se arriva a 7 like il prossimo video lo sceglierete voi scrivete nei commenti come volete farlo a challenge a canzoni a Gene Jones o ad arte scrivetemelo voi e datemi un consiglio grazie mettete like condividete e sorridete qua parla Alexander Jones su canale Alexander Mick